Jason, in qualche modo, sapeva che era lei. Riconobbe il suo vestito, un abitino incrociato, a fiori verdi e rossi, come la base di un albero di Natale. Riconobbe i braccialetti di plastica colorata che portava i polsi e che aveva sentito premere contro la sua schiena quando lo aveva abbracciato prima dell'addio alla casa del lupo. Riconobbe i suoi capelli, un'alta corona cotonata di biondi riccioli tinti e il profumo di limone e aerosol. Aveva gli occhi azzurri come i suoi, ma brillavano di una luce spezzata, come se fosse appena uscita da un bunker dopo una guerra nucleare, gli occhi di chi cerca dettagli familiari in un mondo cambiato radicalmente. Mio adorato, allargò le braccia. La visuale di Jason si ridusse a quell'unico punto focale. Gli spettri e i ghoul non contavano più. Il travestimento magico bruciò in un istante. Raddrizzò la schiena, il dolore alle ginocchia cessò. Il bastone da passeggio si ritrasformò nel suo gladius d'oro imperiale. Il bruciore però rimase. Si sentiva come se strati e strati della sua vita gli venissero strappati via col fuoco. I mesi al campo mezzosangue, gli anni al campo Giove, l'addestramento con la dea lupa. Era di nuovo un bambino di due anni, spaventato e vulnerabile. Perfino la cicatrice sul labbro, quella che si era procurato mettendosi in bocca una spillatrice da piccolo, bruciava come una ferita fresca. «Mamma», riuscì a dire. «Sì, certo che è reale!» La voce di Michael Varus risuonava lontana. «Pensi che Gea lascerebbe languire negli inferi uno spirito così importante? È tua madre, Beryl Grace, star della televisione, amante del re dell'Olimpo, che l'ha ripudiata non una ma due volte, nella sua forma greca e in quella romana. Merita giustizia quanto tutti noi.» Il cuore di Jason vacillò. I proci gli si affollarono intorno, fissando la scena. «Sono lo spettacolo del giorno», realizzò. «Con ogni probabilità, gli spiriti trovavano la cosa perfino più divertente di due mendicanti che si battevano in un duello mortale.» La voce di Piper penetrò nel confuso ronzio della sua mente. «Jason, guardami!» Era a pochi metri di distanza, con l'anfora tra le braccia. Non sorrideva più. La sua espressione era feroce e autorevole, impossibile da ignorare, come la penna azzurra dell'arpia fra i suoi capelli. «Questa non è tua madre. La sua voce sta operando una qualche magia su di te, come la lingua magliatrice, ma più pericolosa.» «Non riesce a percepirlo.» «Ha ragione!» Annabeth salì sopra il tavolo più vicino. Scansò un vassoio con un calcio, spaventando una decina di proci. «Jason, queste sono solo le vestigia di tua madre, come un'ara, forse, o...» «Le vestigia!» Lo spettro di sua madre si inghiozzò. «Come dire i resti, gli avanzi?» «Ebbene sì, guarda come mi hanno ridotta! È colpa di Giove! Lui ci ha abbandonati! Non ha voluto aiutarmi! Non volevo lasciarti a Sonoma, figliolo mio, ma Giunone Giove non mi hanno dato alternative! Non hanno voluto permetterci di stare insieme! Perché combattere per loro adesso? Unisciti ai proci! Prendi il comando! Possiamo essere di nuovo una famiglia!» Jason avvertiva su di sé il peso di centinaia di occhi. «Questa era la storia della sua vita», pensò amaramente. «Tutti che si rivolgevano a lui, sempre, in attesa che dicesse loro che cosa fare». Dal momento in cui era arrivato al campo Giove, i semi dei romani lo avevano trattato come un principe di corte. Nonostante i suoi tentativi di alterare il proprio destino, unirsi alla coorte peggiore, sfidare le tradizioni del campo, accettare le missioni meno attraenti, stringere amicizia con i ragazzi meno popolari. Era stato lo stesso eletto pretore. In quanto figlio di Giove, il suo futuro era assicurato. Ripensò a quello che gli aveva detto Ercole sullo stretto di Gibilterra. «Non è facile essere figli di Zeus. Alla fine, la tensione rischia di spezzarti». Adesso Jason era lì, teso come la corda di un arco. «Tu mi hai abbandonato», disse a sua madre. «Non è stato Giove, non è stata Giunone! Sei stata tu!» Beryl Grace fece un passo avanti. Le rughe di preoccupazione intorno agli occhi e la piega sofferta della bocca ricordarono a Jason sua sorella Natalia. «Mi ho adorato. Ti ho promesso che s'è ritornata. Sono state queste le mie ultime parole. Non ricordi?» Jason rabbrividì. Alle rovine della casa del lupo, sua madre lo aveva abbracciato per l'ultima volta. Aveva sorriso, ma con gli occhi pieni di lacrime. «Fa tutto bene», aveva promesso. Ma anche se era molto piccolo, Jason aveva capito che non era vero. «Aspetta qui. Tornerò a prenderti, mio adorato. Ci vedremo presto». E invece non era tornata. Jason aveva vagato fra le rovine, in lacrime, solo, chiamando la mamma Italia, finché i lupi non erano venuti a prenderlo. La promessa non mantenuta di sua madre era il nucleo di tutto ciò che lui era oggi. Aveva costruito la sua vita attorno a quelle parole brucianti, come il granello di sabbia al centro della perla. Le persone mentono. Le promesse si infrangono. Ecco perché, per quanto lo irritassero, Jason seguiva le regole, manteneva le promesse. Non aveva mai voluto abbandonare nessuno, nel modo in cui lui era stato abbandonato e tradito. Ora sua madre era tornata, a cancellare l'unica certezza che aveva sul suo conto. Il fatto che l'avesse lasciato per sempre. Dall'altra parte del tavolo, Antinu sollevò il calice. «Piacere di conoscerti, figlio di Giove. Ascolta tua madre. Hai molti conti in sospeso con gli dèi. Perché non ti unisci a noi? Suppongo che queste due servette siano amiche tue. Le risparmieremo. Desideri che tua madre resti in questo mondo? Possiamo farlo. Desideri essere re? No!» La mente di Jason stava andando a mille. «No! Io non sono come voi!» Michael Varus lo squadrò con occhi gelidi. «Ne sei tanto sicuro, collega? Ammesso che tu sconfigga Gea e i giganti, cosa farai dopo? Tornerai a casa come Odisseo? Dov'è casa tua adesso? Con i greci? Con i romani? Nessuno ti accetterà. E se tornerai, chi ti dice che non troverai delle rovine come queste?» Jason scrutò il palazzo attorno a sé. Senza i balconi e le colonne illusorie, era solo un cumulo di macerie su una collina spoglia. Soltanto la fontana sembrava reale, e continuava a sputare sabbia come una sorta di monito del potere illimitato di Gea. «Eri un ufficiale della legione!» disse Avarus. «Un condottiero di Roma!» «Anche tu!» replicò lui. «Si cambia partito, a volte!» «Pense che io appartenga a questa marmaglia?» chiese Jason. «Un branco di sconfitti morti e sepolti, che aspettano soltanto la carità di Gea e frignano che il mondo ha in debito con loro?» In tutta la corte, Spettri e Ghul si alzarono e sguainarono le armi. «Attenti!» gridò Piper alla folla. «Ogni singolo uomo in questo palazzo è vostro nemico! Ognuno è pronto a pugnalarvi alle spalle, alla prima occasione!» Nel corso delle ultime settimane, la sua lingua ammagliatrice era diventata davvero potente. Le sue parole risuonarono come pura verità, e la folla di Spettri le credette. Si guardarono di traverso l'un l'altro, i pugni serrati sull'elsa delle spade. La madre di Jason tentò di avvicinarsi ancora. «Io adorato sì ragionevole! Rinuncia alla tua impresa! La vostra Argo 2 non riuscirà mai a giungere ad Atene! E anche se ci riuscisse, rimane la questione dell'Atena Parthenos!» Jason fu scosso da un tremito. «Che vuoi dire? Non fingere ignoranza, mio adorato! Gea sa della tua amica Reina, e di Nico, il figlio di Ade, e del satiro Edge! Per ucciderli, la madre Terra ha inviato il suo figlio più pericoloso, il cacciatore che mai riposa! Ma tu non devi morire!» Ghoul e fantasmi lo accerchiarono sempre più vicini, 200 spettri che lo guardavano pieni di aspettativa, come se stesse per intonare l'inno nazionale. «Il cacciatore che mai riposa!» Jason non sapeva chi fosse, ma doveva avvertire Reina e Nico. E questo significava che doveva andarsene di lì vivo. Fissò Annabeth e Piper. Erano pronte, in attesa di un suo cenno. Si costrinse a incrociare lo sguardo di sua madre. Lei era identica alla donna che lo aveva abbandonato nel bosco di Sonoma 14 anni prima. Ma Jason non era più un bambino. Era un veterano di guerra, un semidio che aveva affrontato la morte innumerevoli volte. E quella che aveva di fronte a sé non era sua madre, almeno non quella che avrebbe dovuto essere. Una donna affettuosa, amorevole, protettiva. «Sono solo le vestigia di tua madre», aveva detto Annabeth. Michael Varus aveva affermato che gli spiriti lì raccolti erano sostenuti dalle loro brame più ardenti. Lo spirito di Beryl Grace brillava letteralmente di desiderio. I suoi occhi imploravano l'attenzione di Jason. Le sue braccia erano tese, nel bisogno disperato di averlo. «Che cosa vuoi?» domandò. «Che cosa ti ha portato qui?» «Voglio la vita!» gridò lei. «La giovinezza! La bellezza!» «Tuo padre avrebbe potuto rendermi immortale! Avrebbe potuto portarmi sull'Olimpo, ma mi ha abbandonato!» «Tu puoi saldare i conti, Jason! Tu sei il mio magnifico guerriero!» Il suo profumo di limone si fece acre, come se bruciasse. Jason ricordò qualcosa che Talia gli aveva detto. La loro madre era diventata sempre più instabile, finché la disperazione non l'aveva fatta impazzire. Era morta in un incidente stradale, dopo che si era messa alla guida ubriaca. Il vino anacquato gli ribollì nello stomaco. Decise che se mai avesse superato quel giorno, non avrebbe più toccato alcol in vita sua. «Tu sei una mania! Capì?» Aveva imparato quella parola durante gli studi al Campo Giove, tanto tempo prima. «Uno spirito della follia! Ecco a cosa ti sei ridotta!» «Io sono tutto ciò che resta!» confermò Beryl Grace. La sua immagine cintillò con un intero spettro di colori. «Abbracciami, figlio mio! Sono tutto ciò che ti rimane!» Il ricordo del vento del sud parlò nella sua mente. «Non hai voce in capitolo sulle tue origini, ma puoi scegliere il tuo futuro!» Jason si sentì come se si stesse ricomponendo uno strato dopo l'altro. Il battito del suo cuore tornò stabile. Il gelo abbandonò le sue ossa. Avvertì il calore del sole pomeridiano sulla pelle. «No!» gracchiò. «Osservò Annabeth e Piper. Io non ho cambiato partito. Solo che adesso la mia famiglia si è allargata. Sono un figlio della Grecia e di Roma!» Lanciò un ultimo sguardo alla madre. «Non sono figlio tuo!» Fece l'antico segno di scongiuro per scacciare il male, tre dita portate al cuore e poi in avanti. E il fantasma di Beryl Grace scomparve con un lieve sibilo, come un sospiro di sollievo. Antino gettò via il calice. Studiò Jason con un'espressione di indolente disgusto. «E va bene allora!» disse. «Suppongo che ti uccideremo e basta!» Il cerchio dei nemici si strinse attorno a Jason.